Da ieri mattina è arrivato il provvedimento del direttore generale che sospende gli stazionamenti nell'area hobby e del pronto soccorso. In pratica i pazienti non possono restare più di poche ore, quindi dovete stabilizzarli molto velocemente. Tutto questo per carenza del personale medico. È reale la situazione? Sì, la situazione è reale ma il problema non si risolve modificando l'attività dell'area di osservazione breve. Per cui ho chiesto al direttore generale ieri di revocare il provvedimento. Il problema è che siamo senza risorse organiche che in questo momento non sono in grado di poter fronteggiare l'attività critica come quella di un'area d'emergenza. Di fatto in questo momento non vi è una garanzia di sicurezza sia per i pazienti sia per gli operatori. Perché non abbiamo personale, non possiamo dare riposi, non possono andare in ferie. E tra l'altro questo problema è anche presente al papardo. Io essendo primario dei due pronto soccorsi, francamente ho delle grosse difficoltà nella gestione della turnistica del personale stesso. Quanti medici dovreste avere e quanti ne avete adesso? I due pronto soccorsi hanno un organico che servirebbe esclusivamente per un solo pronto soccorso. E sono, lei considera che qua sono otto e otto sono lì. Diceva che un altro medico deve andare via entro luglio? Sono tre i medici che devono andare via, quindi fra qualche giorno il numero è quello che gli ho detto. Con questo provvedimento del direttore, chi viene adesso al pronto soccorso cosa farà? Cioè se ha bisogno di assistenza proprio qui in osservazione breve? No, l'assistenza è continua. È l'area dove sono presenti i posti elettotecnici che in alcuni pronto soccorso si chiama osservazione breve, in altri non essendo presente nell'atto aziendale e sono posti elettotecnici rappresentano il centro dell'attività dell'area di pronto soccorso.